Domande decadute, ricariche di 40 euro e il timore che possano rimanere sempre. È questo l'esito delle disastrose elaborazioni straordinarie. Ciao amici di Radio Uci, sono Giulia e senza troppi fronzoli diamo subito il via al nostro appuntamento di oggi parlando dell'elaborazione straordinaria di reddito e pensione di cittadinanza per le ricariche mancanti di marzo. Mi riferisco in particolare a chi non aveva ricevuto la ricarica del mese scorso perché in attesa del ricalcolo legato alla mancata applicazione dei tagli a febbraio per le maggiorazioni sociali per cui, come sempre a cose fatte, arriva anche un comunicato stampa di IMSS con la spiegazione sommaria della situazione. Gli esiti di questo ricalcolo sono stati disastrosi come immaginavamo. Domande decadute, ricariche tagliate due volte e importi di 40 euro che non si limiteranno solo a questa elaborazione. Gli accrediti partono da oggi, 6 aprile, ma, come da comunicato stampa, non tutte le elaborazioni sono state completate. Brevemente, il quadro della situazione è questo. L'importo della nostra ricarica di marzo viene calcolato sulla base dell'ISEE 2022 a cui si sommano, come componenti del reddito familiare, anche le maggiorazioni sociali che riceviamo, comprese quelle per la disabilità, e questo fa decadere le domande di RDC oppure ne fa diminuire l'importo. In aggiunta a ciò, viene applicato anche il recupero rispetto alla ricarica di febbraio in cui le maggiorazioni sociali che riceviamo non erano state prese in considerazione per non si sa bene quale errore tecnico. Quindi, in questa elaborazione straordinaria, abbiamo sia l'importo teorico di ricarica RDC che ci spetterebbe per il 2022, sia il recupero di quanto abbiamo preso in più a febbraio. Quindi, se la nostra ricarica era sufficientemente alta da reggere entrambe le operazioni, allora abbiamo subito un doppio taglio pieno e dalla fine di aprile e nei mesi a seguire riceveremo come importo standard della ricarica ciò che risulta dal primo taglio. Al contrario, se la nostra ricarica non era sufficientemente alta, oltre al ricalcolo con ISEE e maggiorazioni sociali, il recupero di febbraio è stato rateizzato garantendo l'importo minimo che il reddito di cittadinanza può avere per legge, e cioè 40 euro mensili. E questo vuol dire che fino a quando non avremo restituito tutto l'importo, la nostra ricarica resterà la stessa. Ora, ogni nucleo familiare è diverso e non tutti ricevono le stesse maggiorazioni sociali, quindi i dati potrebbero cambiare per ogni singolo caso, perciò non è possibile conoscere la situazione di tutti. Però, per intenderci, facciamo un esempio di massima. Nucleo familiare di una sola persona che si trova in stato di invalidità al 100%, che non ha nessun altro tipo di reddito, solo la maggiorazione sociale dell'incremento al milione dell'invalidità civile in misura piena, quindi 388 euro, che approssimiamo a 390. L'importo mensile dell'RDC era, fino allo scorso anno, più o meno di 500 euro, su cui grava già l'importo dell'assegno mensile di invalidità civile. Ora, invece di essere 500 euro, la ricarica mensile per il 2022 sarebbe più o meno di 110 euro, perché le 390 euro circa di maggiorazione sociale entrano a far parte del reddito familiare. Non solo, si aggiunge a questo anche il recupero delle 390 euro che abbiamo ricevuto in più a febbraio. Per legge, la ricarica del reddito non può essere più bassa di 40 euro, a meno di penalità. E quindi la restituzione delle 390 euro di febbraio viene rateizzata. Come? 110, che sarebbe l'importo della ricarica per il 2022, meno 40 euro che l'importo minimo, fa circa 70 euro. Questo è quanto può essere recuperato per ogni singola ricarica. Ora, se dividiamo 390 per 70, abbiamo 5,5, e cioè il numero di mesi per cui avremo questa rateizzazione. In pratica, per i prossimi 5 mesi riceveremo la ricarica di 40 euro. Nel sesto mese sarà recuperata la parte mancante, più o meno 40 euro, e quindi riceveremo una ricarica di circa 70 euro. Dal settimo mese, invece, la ricarica tornerà ad essere dell'importo spettante per il 2022, cioè circa 110 euro. Discorso ancora diverso per chi invece ha trovato la sua domanda decaduta. In questo caso, però, per le stesse ragioni di cui sopra, non è possibile fare un discorso di massima, ma sarà necessario controllare se la combinazione di ISEE 2022 e maggiorazione sociale ci permettono di rientrare nei requisiti RDC, magari con l'aiuto degli operatori del tuo CAF o patronato di riferimento. Ma sarà sempre così? Purtroppo sì, o almeno fino a quando non sarà varato un decreto o un emendamento che escluda le maggiorazioni sociali dai calcoli dell'RDC, oppure come per l'ISEE che non consideri gli importi legati alla disabilità come parte del reddito familiare in senso ampio, non solo per l'RDC. A tale scopo, la Fondazione Fish ha lanciato una petizione con raccolta firme che ti lascio in descrizione per cercare di risolvere. Una questione su cui, fatta eccezione per i divulgatori qui su YouTube e qualche testata giornalistica, nessuno in pratica ha speso una parola. Insomma, ci esimiamo dai commenti piuttosto ovvi, ma di certo questo ci fa riflettere sulla considerazione che il nostro paese ha per le persone in stato di disabilità grave, perché parliamo di invalidità al 100%. Ah, e nello stesso comunicato, IMSS ci ricorda che sono ancora sospese le elaborazioni e le ricariche per i cittadini che non hanno ancora un ISEE 2022 in corso di validità. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. E speriamo con notizie migliori. Ciao!